Salve a tutti, oggi vi chiediamo un aiuto. La quarantena sta cambiando tanto le nostre abitudini in casa e dal punto di vista alimentare. Al termine di questo periodo sarà importante capire in che direzione sono andati questi cambiamenti, che possono essere anche stati migliorativi, magari mettiamo anche più attenzione a quello che mangiamo e come cuciniamo in casa, oppure possono essere stati peggiorativi. E questo sarà importante saperlo per attuare delle strategie di correzione. Per questo vi chiediamo 5 minuti del vostro tempo, veramente poco, per compilare un piccolo questionario che abbiamo ideato e che trovate all'indirizzo che vedete in sovraimpressione. Ne stanno girando tanti di questi questionari, abbiamo pensato di farlo anche noi, che abbiamo una competenza storica sulle tematiche della valutazione alimentare. Il questionario, come vedete, è molto molto semplice, basterà cliccare sulle risposte e verrà automaticamente inviato a noi che ne faremo l'interpretazione. Lo abbiamo inquadrato all'interno del nostro osservatorio sugli sprechi alimentari, perché pensiamo che sprechi alimentari, nutrizione, valutazione dietetica, educazione alimentare, linee guida per una sana alimentazione, vadano tutte approcciate in maniera sinergica. I risultati verranno pubblicati, li pubblicizzeremo, ma la cosa importante è che intendiamo discutere questi risultati insieme a voi che ci avete aiutato a compilarlo sui nostri profili social. Per questo vi ringraziamo per questo aiuto che ci potrete dare e vi auguriamo buona compilazione.